ciao a tutti sono antonia questo video è per chi si vuole bene che è il motto della mia palestra pura vita 2 la frequento da tantissimi anni e ho avuto modo di avvicinarmi a diversi corsi dove ho trovato sempre istruttori professionalmente molto validi ne ho tratto benefici fisici e psicologici amo la mia palestra anche per il clima che trovate familiare e caloroso già in segreteria attualmente svolgo corsi online in diretta di pilates e fitness corsi online che la mia palestra ha attivato subito l'anno scorso a seguito della pandemia pertanto vi invito a venire a conoscere per chi si vuole bene la mia palestra pura vita 2 sempre